Su questo smartphone c'è la firma di un designer giapponese, la back cover simula il feeling della carta e all'interno c'è il nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1. Si tratta del nuovo top di gamma di Realme, il GT2 Pro e un bel po' di cose da dire su di lui. Sul retro di questo Realme GT2 Pro c'è la firma di Naoto Fukasawa, il designer giapponese che ha firmato la back cover di questo GT2 Pro e devo dire che oggettivamente ha riportato il suo stile organico in questo design. La back cover è stata realizzata in un polimero bio-based, in parole povere una percentuale del polimero utilizzato arriva da fonti rinnovabili. La consistenza è quella della plastica, mentre il feeling a tatto è più piacevole perché è stata aggiunta una trama che dovrebbe simulare il feeling della carta, anche se a me sembra più cartoncino. Non me ne voglia Naoto, ma a me non piace né il look né il feeling e soprattutto non apprezzo la firma sul retro. Ovviamente si tratta sempre di gusti personali, ma in fondo è uno smartphone classico con le fotocamere in un rettangolo sul retro. Apprezzo comunque lo sforzo e la ricerca e comunque se non vi piace c'è in colorazione nera e poi in box c'è una cover in TPU comunque firmata. Apprezzo invece il profilo in alluminio e il tasto power zigrenato ed anche le cornici quasi simmetriche della parte frontale dove c'è il pannello da 6.7 pollici, QHD+, AMOLED, LTPO 2.0 a 120Hz protetto da Gorilla Glass Victus. Sotto il display c'è il sensore di impronte digitali che è valido e veloce, non è al vertice ma è molto buono. Il display è ottimo, i 120Hz vengono gestiti bene, il refresh rate si abbassa anche a 5Hz quando necessario, poi c'è il 100% della copertura P3, il supporto HDR con un picco di 1400 nits. Nessun problema di visibilità alla luce del sole, il sensore di luminosità funziona bene ed in generale il pannello è un gran piacere da utilizzare per guardare film o stereo su Netflix Prime Video. Il merito è anche del reparto audio stereo con supporto Dolby e ARS, il volume è corposo, la qualità audio è abbastanza buona e ovviamente nemmeno a dirlo non c'è il jack audio. Dal punto di vista telefonico ha una buona ricezione, anche la qualità delle conversazioni è altrettanto buona, e in generale è un dispositivo completo dal punto di vista della connettività, 5G, Wi-Fi 6, NFC, Bluetooth e tutto quello che serve. E continuando a parlare di hardware, il punto forte di Realme GT2 Pro è il nuovo processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Lo Snapdragon 8 Gen 1 è un stock realizzato a 4 nanometri con architettura ARMv9, con 8 core strutturati in un core Cortex-X2 a 3 GHz per prestazioni impegnative, 3 core Cortex-A710 per carichi alti a 2.5 GHz e 4 core Cortex-A510 a 1.8 GHz per operazioni a basso carico. La GPU integrata invece è la Dreno 730. Insomma, questo stock sta arrivando sempre su più smartphone Android, con prestazioni davvero eccellenti, ma con qualche problemino di surriscaldamento, o meglio, di dissipazione del calore. Realme ha inserito una Vapor Chamber e altri piccoli elementi che migliorano la dissipazione del calore dello Snapdragon 8 Gen 1. Il risultato è... no, non vi preoccupate, la Backover in similcarta non andrà a fuoco, ma quando spinge e il calore prodotto c'è, si sente, è tangibile e c'è anche un drop delle prestazioni. Durante le operazioni prolungate per più di 15 minuti, come il gaming, un benchmark o qualsiasi altra operazione che impegna CPU e GPU, questo Realme GT 2 Pro sta fisso sui 46 gradi e in alcuni stress test arriva anche al picco di 52 gradi. Durante l'utilizzo quotidiano non scalda mai, va benone, se non forza nel gaming, ma comunque si chiudono tutte le sessioni alla grande. Il punto è che ora non c'è ancora una temperatura esterna importante, fa ancora freddino, quindi non so se d'estate, magari sotto il sole, questo calore che ora è ancora accettabile potrebbe dare dei problemi. Il drop delle prestazioni quando la temperatura sale è nel range del 5%, 10%, qualcosa più, qualcosa meno, in base a quanto è prolungata l'operazione. Android 12 con Realme UI 3.0 fanno viaggiare questo GT 2 Pro a livelli molto alti. Lo smartphone è velocissimo in qualsiasi operazione e non potrebbe essere diversamente con una base hardware del genere. Ho apprezzato la consistenza della Realme UI e una buonissima personalizzazione di Android, diversissima da quelli che sono i dettami estetici del look stock, ma comunque è in grado di offrire una serie di funzioni molto interessanti in termini di privacy, personalizzazione e performance. C'è addirittura una GT Mode che dovrebbe spingere le prestazioni al limite dello smartphone, ma nella realtà dei fatti non fa molto e anche in benchmark confermano che non c'è variazione nelle prestazioni. Quindi un bel sistema consistente, c'è ancora qualche baguettino di poco conto, ma ho già ricevuto un grosso aggiornamento che ha migliorato anche la gestione del stock. La batteria è bella grande, sono 5000 mAh e può essere ricaricata con l'alimentatore incluso in confezione da 65 W. E quindi, tra ricarica rapida e una buona gestione del sistema, questo Realme GT 2 Pro porta sempre a casa la giornata, anche quella più dura e impegnativa. E se proprio volete sapere le ore di display, mediamente sono circa 6 ore, 6 ore e qualcosa, ma se si spinge parecchio con il stock, la batteria scende che è un piacere. Allora, per quanto riguarda l'esperienza fotografica, devo dire che mi sono ricreduto. Ho trovato l'esperienza di scatto molto divertente e versatile, ma prima un po' di numeri. Il sensore grandangolare è da 50 megapixel f1.8 stabilizzato, Anche il sensore ultra grandangolare è da 50 megapixel f2.2 ed ha la particolarità di avere field of view da ben 150 gradi. Può essere utilizzato per scatti senza distorsioni, con evidente distorsione, oppure in modalità fisheye, ma solo per le foto. Infine, c'è un sensore da 2 megapixel microscopico che consente di fare scatti molto particolari. La fotocamera frontale nel foro del display è da ben 32 megapixel f2.4. Nemmeno a dirlo, i risultati di giorno sono buoni, c'è dettaglio, c'è una buona riproduzione di colori, un look estetico non molto contrastato, ma comunque con colori vivaci. C'è anche una buona consistenza di colori tra grandangolare e ultra grandangolare, anche se si utilizzano tutti i 150 gradi, è la modalità fisheye. Si perde qualcosa in termini di dettaglio e consistenza nelle condizioni di luce artificiale in scarsa luminosità, dove la modalità notte fa davvero un gran lavoro per tirar fuori qualcosa di comunque apprezzabile. In queste condizioni è chiaro che l'ultrawide soffre di più. Onestissimi anche video ben stabilizzati in 4K e c'è anche la possibilità di registrare in 8K, ma non consiglio mai questa risoluzione perché framerate è ballerino ed è più un esercizio di stile. Bene anche i selfie dove l'algoritmo interviene in maniera massiccia sia di giorno che di notte. Peccato per l'assenza di uno zoom dedicato avrebbe reso la sezione fotografica ancora più dinamica, ma grazie al crop comunque sul sensore da 50 megapixel si può fare uno zoom 2x abbastanza buono. Ah, si può anche scattare in risoluzione piena a 50 megapixel ed anche in un formato RAW+. Ed in generale ve l'ho già detto, non è una fotocamera al top ma è davvero divertente tra 150 gradi, il fisheye e la microscopica. Però, però, tutto ruota attorno al prezzo. Perché la scheda tecnica è da fascia alta anche se ci sono delle rinunce. Non c'è la ricarica wireless, non c'è la certificazione contro acqua e polvere, anche la vibrazione non è il massimo ed altri piccoli dettagli come ad esempio il supporto software. Da tradizione Realme ci si potrebbe attendere un prezzo bello aggressivo e invece rispetto alla precedente generazione c'è stato un bell'aumento. Ci vogliono circa 749€ per portarsi a casa questo Realme GT 2 Pro nella versione 828. Fortunatamente Realme si salva in calcio d'angono con una promo per il periodo di lancio che permette di portarsi a casa questo GT 2 Pro a 649€. E per quel prezzo è una buona alternativa. È un buon smartphone, se lo sceglierete vi troverete comunque bene, ma personalmente non mi ha lasciato il segno. È stato divertente da provare, ha tutto al posto giusto, un processore potentissimo, ma non so, forse l'estetica che non mi è piaciuta tantissimo per un prezzo comunque alto. E nulla dai, sono curioso di sapere che cosa ne pensate, perché secondo me c'è ancora da dire tantissimo su questo Realme. E anche per oggi è tutto, un saluto da Bernardo per TuttoAndroid.net. Ciao!